Oggi andiamo a trovare Sara Morelli che è la nostra bibliotecaria, permesso! Oddio, aiuto! Possiamo? Prego, prego, ma mi state riprendendo, aiuto! Sì, perché siamo curiosissimi di sapere che cosa stai facendo. Allora, va bene, io in breve vi dirò, dunque, adesso intanto stavo un po' reimpostando un po' di cose, annotando anche cose che si stanno movimentando in questa sala, allora mi alzo, vi faccio vedere quello che stiamo facendo. Allora, intanto abbiamo movimentato buona parte dei fondi che si trovavano su al Piano Nobile, proprio nella biblioteca della Fondazione a Piano Nobile. Faranno circa 750 volumi, come anche sono stati portati giù altri fondi che provenivano sempre dalla sala di Omede su in Piano Nobile, nella Casa Museo. Si è cercato un po' di ricostruire quella che era la biblioteca storica di famiglia, qui o comunque portare giù gran parte dei libri che già si trovavano qui originariamente e quindi com'era, come si presentava la vecchia biblioteca storica, che tra l'altro vediamo qui, perché qui c'è una foto, proprio una foto originale, una riproduzione di come si presentava la biblioteca storica all'epoca di Ruggero Ranieri, nonno dell'attuale presidente della Fondazione, il professor Ruggero Ranieri. E quindi è quella che si sta un po' cercando di riportare alla luce, al suo splendore originario, per così dire. Grazie mille Sara, scusaci del disturbo. Prego, prego. Buon lavoro. Grazie, grazie. È stato un piacere. Ciao. Ciao.